Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora Non un gran che è il cross, la difesa a vita facile Ferma l'azione, recupera il pallone, mettendo... Occhio alla botta, all'occasione per riaprire il match Ha dimostrato una tecnica pazzesca, non è da tutti segnare un gol del genere Sicuramente uno dei gesti più spettacolari e difficili da eseguire Certo però, quando riesce, come in questo caso Sono riusciti a battere il portiere con questa splendida conclusione E qui c'è grande senso della posizione